Musica Ma la tonicchia raga, oh bentornati su FIFA 14 Ultimate Team Allora siamo qua per vedere se riusciamo ad avere sta benedetta promozione oppure no Quindi stagione giocatore singolo online Ah no la promozione già l'abbiamo avuta, questa era il giocatore singolo quindi online Quindi stagione online, la salvezza ce l'ho Dobbiamo vedere se riesco magari ad avere una buona promozione Quindi questa è la mia squadra, mi sta più che bene sinceramente non mi metto lì a cercare giocatori raga Perché non ho molto tempo, penso che l'avete visto insomma Tra una miriade di giochi che devo giocare non riesco a fare allenamento al gioco insomma Quindi mi tengo un po' la squadra come è perché non so sicuro nemmeno insomma Se avrò più avanti tempo ancora per continuare FIFA perché tra poco uscirà qualche gioco nuovo che vorrei fare Che cacchio mo Quindi mo vediamo Intanto facciamoci questa partita Vediamo che ne esce fuori Sembra se trovo qualcuno che ancora ci gioca FIFA eh Oh no Sì Ok Vai Mosir, Bokinia, Bokinia, oddio Ok una squadra molto allegra Che robè Sono tutti asiatici Deve essere un asiatico sto tipo Oh mo io con la mia squadra qua italiana 4-1-2-1 Mizzica Ok dai non gioco da una settimana quindi Senti la porta è di qua, bello La porta guarda che è dell'à La porta è dell'à Mizzica No dammi la palla Porto cattivo Dammi la palla Hai visto il trucchetto? Mazza hanno cambiato il colore lì del pannello Mizzica Balotelli Balotelli Balo Che fai? Oh se ci mette pure il coso lì come si chiama Un casino eh Allora Ma perché c'è sempre quello che si deve mettere davanti Ma porca Bravo Mi è piaciuto Speriamo che qualcuno C'ha la testa buona E non tonda Che cavolo è? Mizzica Saranno pure grigi o di bronzo però Nooo che cazzo di passaggio è? Mizzica A Samoa Ma che roba Non me l'aspettavo nemmeno che entrava così facilmente Cioè veramente ne era neanche immaginabile Non me l'aspettavo c'è nel senso proprio Che segnassi così Dai Ok dai Mù qualcuno dirà vabbè dai Lui è tutto bronzo Pure in faccia A quest'ora sarà un bronzo E' vero però E' chiaro eh Non è che dico Nick è un po' scarso Non è che Molto bravo Nooo Ecco vedi Questo ne dà la conferma Questo dà la conferma Che ho fatto una cagata Mi sta Oh Che sta a fa' quello Don't look lì Ok oh Perché il mio giocatore Arriva la palla nei piedi E poi dice Vabbè ma dai Che me ne frega Sì Oh balo No non è balo È Tevez Mamma mia Ce la faremo Ce la faremo Oggi o domani Grazie Molto gentile Molto gentile Da parte tua Ecco Sì Tacco Tacco Sì che lo sapevo io Dai eh Dai dai Caccio d'angolo Dammelo Vai Mezza Golle Dai vabbè dai È chiaro C'era una squadra Di bronzi Dai Mia tutta ora È normale Per carità Scusa 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 Siamo troppo Sì che va che roba Va che roba No è scemo Lala deve passare Madonna mia Ma come si fa ad essere così Scusa 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 È riuscito ad antigliare un pallone tuttanto che semplice Pirlo Ma Ma porca di quella porca Vai Non te chiede Noi Eeeh Non l'ho toccato Non l'ho sfiorato Oh fuck Dai Dio Bono Madonna mia Che branco Di 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 Tipi strani Che c'ho Marchissimo archisio allora toglietevi tutto parla che è che è ma la fangolo della sfera ma porca e ancora il primo tempo da 2 a 0 a primo tempo dai no ho sbagliato mai però canxi shong fanno massa ma fatto il tunnel dell'amore non passava bravo bravo desci io bravo veramente desci io sei in amore dai oddio quello non l'ho visto mi pareva l'arbitro porca miseria mizzi gao e che culo che c'è il portiere che l'ha intercettata e che è un intercettore cruis a chi l'hai passata bello si si va mizzi gao e che non ho fatto niente 2 a 0 vabbè dai speriamo che ah su questo non c'è dubbio gioca in pausa in attesa dall'avversario scusa 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 no che passaggio è merda no non la pigliare che la tiri lo so che la tiri no non l'ha tirata bravo ma no ma no 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 che è oh dove va la palla affonghi mi zika ah 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 la palla è mia scusa che fai vabbè oh fanno così tutto il giorno fanno così fino a che arriviamo al punto di destinazione ti pareva vai mannaccia tua e lì i tuoi piedi di cacca che avete eh andate in merda dai tutte ste minchie di passaggi e che mi sembra quasi la terza guerra mondiale mi sembra no ho sbagliato ho sbagliato no eh dai caccio e io non so tirare i calci di rigore porca di quella miseria che è una mezza fregatura minchie ha fatto la cacata del secolo ah fangulo non so tirare sti cazzo caspita di caccia di rigore che non una volta era più semplice poi li hanno fatti così complicati uguale l'importante è che vingo tutto quello che mi interessa a me prendola va e vai bravo il mio portiere e te pareva ok primo tempo è andato meglio il secondo mi faccio un rigore che non so tirare ovviamente oh shit eh lol a quest'ora diceva porca miseria appena arrivo lì davanti questo piglio e mi frega la palla salta l'uomo mi zica porca di quella oh queste teste qua squadrate che hanno che lini aie aie criscito ma vaffa oh oddio dai e dove siamo in Corea del Nord ma vaffa dai c'ho voglia di tirare io non è che c'ho voglia di andare sempre davanti alla porta eh rimandiamo l'appuntamento allora dai è mai possibile che deve essere così difficile ora forza balo a vuoi essere mai che io madonna mia che porca di quella se mi incazzo che non te parevo sembra la solita storia il cross è stato calibrato male il difensore è potuto intervenire senza problemi merda dai dai togliete davanti roba inutile se vabbè 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 va che roba vabbè ma va che roba nissan pure ah sono giapponese allora ma tu guarda che gol di merda il portiere non si è proprio minimamente spostato Certo, mo' c'ha voglia di giocarsela, vero? Dai, 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 dai Manca poco Non devono segnare O segno io O niente Dai Ma tu guarda che gold e merda Che m'ha fatto Fuori gioco Allora Giustamente 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 Dai, 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 dai Chi è che si è strappato? Porca di quella Vai E vai Così si fa Marchisio 3-1 Avanti La voleva vincere Mi dispiace Un'altra volta Così Ma che roba Eeeh Boom Avanti E' finita Altro che si riparte Si, a chi l'ho passata? Dai, ti faccio pure contento Ti faccio pure contento E te la passo Lol 5 minuti Di recupero E che Bravo Ormai stiamo giocando Tanto per E basta Falla finita Benetta Partita Dai Oh E' finita E' finita 3-1 Uro È andata bene Vai È andata bene Ah già Ma avete detto Che devo cambiare La maglietta E il giocatore Me ne dimentico Lo devo fare Lo so Eh lo so Tante cose da fare Raga Tante cose Ok Vabbè L'importante è che l'abbiamo vinta La promozione Asamoa Con quel bel 8,8 Marchetti De quel gol Te lo potevi evitare Comunque Allora 500 credit Avanza Forza Titolo vinto Oh Avanti Ho ottenuto 2000 credit Ok Ho vinto il titolo Bla 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 Ok Che è già finita Insomma ho vinto il titolo Che devo vincere più No Oh yeah Ok Ma ancora non è finita Ah forse ancora Cosa c'è Ah no Adesso c'è la stagione 9 Ok Sì Divisione 9 Vabbè Divisione 9 Stagione 9 Madonna È in casino Comunque ragazzi Ah ho letto che qualcuno S'era infortunato Ma dalla mia O dalla sua parte Ah sì Cacchio Pirlo Eh vabbè Si è fatto male Vediamo un po' cosa Applica consumabile Forma Guarigione Valore Cosa si è fatto male Lui? Gamba Ok Gamba Più 4 Valore Non c'è Questo è No 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 Ok questo Avanti Tutto a posto Nuovo di zecca Qua ci mettiamo Contratto Mettiamo questo E ne ho tanti Ok raga Insomma Dai Dico che Concludo questo gameplay C'è una partita Mi è più che sufficiente Per me Per la seconda Devo un po' poi vedere Insomma Quando c'è Quando c'è del tempo Quindi raga Spero che appunto Il gameplay vi è piaciuto Come sempre Commentate Iscrivetevi E Insomma Fatemi sapere un po' Che ve ne pare E niente Insomma dai Ci becchiamo Ok Ciao alla prossima raga